Il maresciallo Carmine Antonio Perillo, attualmente comandante della stazione della Compagnia Carabinieri di Agropoli, guidata dal capitano Fabio Lagarello, ha ottenuto un'importante carica, il grado di luogotenente. L'importante riconoscimento arriva dopo numerose operazioni antidroga e arresti svolti sul territorio del Cilento, dove Perillo è stato sempre in prima linea insieme ai colleghi. Stimato e molto apprezzato nella città di Agropoli per la sua disponibilità, serietà e professionalità nel lavoro che svolge. Attento conoscitore delle dinamiche cittadine, sempre pronto ad intervenire e risolvere al meglio i disagi e le problematiche. Carmine Antonio Perillo è originario di Sessa Cilento e da 30 anni svolge il servizio nell'arma. Dal 1994 al 1998 è stato vicecomandante della stazione di Pesco Costanzo, per poi passare come capo equipaggio presso il Norm di Castel di Sangro. Dal 1999 al 2000 è addetto presso la stazione di Battipaia, da ottobre 2000 ad agosto 2002 diventa comandante della stazione Carabinieri di Acerno, tornando nel suo Cilento per dirigere per ben 14 anni l'aliquota radiomobile della compagnia agropolese e per tre anni il Norm 2016-2019. Dall'8 luglio 2019 ha assunto il comando della stazione Carabinieri di Agropoli. Un augurio sincero dalla redazione di Cilento Channel.